60 Seconds del giovedì sera, cari amici, oggi pochi secondi, più che sufficienti per ricordare a tutti noi, noi che abbiamo sognato sin da bambini, e vi dirò in che senso di fare questo mestiere, in generale a chiunque voglia avere nella vita un comportamento con la schiena dritta, come si debba fare, come ci si debba comportare davanti alla traccotanza e la prepotenza. Cristiana Manpur, storica giornalista e volto della CNN, prima guerra del golf, roba grossa, aveva in programma per oggi a New York un'intervista con il presidente iraniano Raisi. Sibadi, dal 1995 a oggi, la Manpur ha intervistato tutti i presidenti iraniani. Costui si fa attendere 40 minuti, dopo ovviamente potete immaginare mesi per preparare, ore per allestire il set, eccetera, eccetera, poi arriva un portavoce dicendo guardi, o si mette il velo, indossa il velo, oppure il presidente non si farà vedere. La Manpur ha detto guardi, per quanto mi riguarda, visto che siamo New York, Stati Uniti d'America e qui non è prevista alcuna obbligatorietà di velo o alcunché, il presidente può scegliere se venire e fare l'intervista come concordato o non presentarsi. Il presidente non si è presentato facendo una figura evidentemente piccola, piccola, piccola. Al di là della dignità personale, Cristiana Manpur ha mandato un messaggio fortissimo nei giorni delle proteste per l'allucinante tragedia di Masa Amini. La ragazzina, mi permetto di dire ragazzina, perché parliamo di una 22enne che è stata pestata a morte da dei subumani perché una ciocca di capelli usciva dal velo. Un messaggio forte, chiaro, inequivocabile. Così si fa con i prepotenti, così si fa con i dittatori, senza storie. Dicevo del perché poi qualcuno come me, tanti come me, hanno sognato una vita di fare i giornalisti, certo non a livello di Cristiana Manpur. Da bambino, quinta elementare, pensate i maestri e le maestre di un tempo, il mio primo pezzo mi fu assegnato dalla maestra appunto per il giornalino di classe, svolgimento, la rivoluzione in Iran di Khomeini. Pensate come tutto torni sempre nella vita e giù il cappello davanti a Cristiana Manpur.